bello a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video subito salutiamo Grifondo trasferitosi a Cogni per leggere tutti i contattori e noi lo salutiamo ci siamo nel cuore come al solito io sono Gabri io Birillo oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido vai Birillo esploricelo allora un liquido una torta a meringa alla fragola missis meringue infatti c'è la signorina con una torta infilata in testa alle fragole con un pochino di fragole dovrebbe essere un 70 30 70 vg e 30 pg 0 nicottina 50 ml della charlis cake dust andiamo a fare la prova di svapo a tirare qualche conclusione a questo liquido ricordiamo di salutare cristiano di svapo caffè marina di carara e la spezia se avete un attimo di tempo per andare a vedere c'è un mucchio di liquidi il nostro negozio di riferimento allora la boccita chabi a me ci piace almeno ti vai ad usare dentro al dripper un liquido in base a quanto deve mettere anche se io ho una squonca il gun 1 e mezzo io a brici al tsunami kit che spinge sempre non ti lascia mai ai piedi lo senti che ti porti un cassito di batteria dietro è purtroppo un tubo però un viaggio ma come come sapore come lo sento allora il vapore ne fa e il sapore e le fragole si sentono a me piace subito fragole si io sento subito il cavolo buono all day si lo smaga lo smaga non è un super dolcioso di quelli che ci piace a noi però nessuno era buono non è come ci però lo senti il suo dolce te lo da della fragole un dolcetto freschetto non è nemmeno fuori che ce l'ho a questo è buono il fumo ne fa molto si anche il sapore con un e mezzo un pochino chiuso e non si chiuso che arriva una bella una boccata di fondo in bocca buono e ci do noto a sto liquido si sono merita sulla merita una bella linea poi c'è anche con il limone a mister merenghi quando devo fare una recensione anche di quello allora dalla tavola dello svopo è tutto ricordatevi di iscrivervi al nostro canale è importantissimo abbiamo il canale su instagram e su facebook sempre la tavola dello svapo dalla tavola dello svapo è tutto un bacio ciao